Allora, ciao a tutti, questa è la recensione unificata di Nomadland ad opera mia e del mio collega Antone Rubino di Bari e che posso dire su questo film? È stato spettacolare, una fotografia unica al mondo con qualcosa di diverso, di differente, non di commerciale come siamo abituati al solito insomma, e cosa posso dire ancora per valorizzare meglio questo film? Dirò, vabbè, è la storia di questa dipendente barra nomade che lavora ad Amazon ed è qualcosa di allucinante, come devo dire, dal punto di vista morale di quello che insegna questa storia Nomadland descrive l'umanità degli ultimi, insomma, qualcosa di mai visto fino ad ora qualcosa che, come posso dire, è talmente emozionante, spettacolare perché si è puntato molto alla resa visiva degli eventi di cui non riesco ad esprimere un'opinione appieno e il resto che posso dire è semplicemente che lo dovete andare a guardare assolutamente, è un'esperienza che non può mancare nella vostra vita alla faccia di tutti quelli che dicono che è noioso voi non capite niente di cinema secondo me non avete nemmeno mai visto un film vero e proprio nella vostra vita e con questo, arrivederci, alla prossima ciao, da Alex, del club dei cinefili incalliti ciao ciao